Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari e a due è stato notificato l'obbligo di dimore in un'operazione condotta stamani dalla Guardia di Finanza di Siracusa che ha fatto luce su strani movimenti e cambi di società all'interno della ditta IGM che gestisce la raccolta dei rifiuti non soltanto nell'Aretuseo ma anche in molti altri comuni, tra cui Modica, dove ha sede operativa in Contrada Michelica e che ha un valore stimato di oltre 45 milioni di euro. Altre sette persone sono state raggiunte da provvedimenti interdittivi. L'indagine delle fiamme gialle ha portato alla luce reati di bancarotta fraudolenta ad opera di tre società riconducibili a un unico gruppo imprenditoriale di carattere familiare. Alcune aziende subentravano negli appalti dopo che la società giudicataria improvvisamente veniva pilotata verso uno stato di fallimento. Si è scoperto così che tutte le entità costituivano un vero e proprio sistema di scatole vuote che in modo programmato ha assorbito, non onorandolo, il carico fiscale e contributivo dell'attività. Tutto questo grazie alla compiacenza di persone con precisi ruoli e di uno staff tecnico formato da commercialisti, prestanome, tra cui un avvocato stipendiati dal gruppo. Le società di gestione dei rifiuti mantenevano nel corso del tempo una stessa denominazione al fine di far apparire che il servizio venisse svolto da un'unica impresa. In realtà, quando l'esposizione debitatoria di una delle aziende diventava insostenibile, l'impresa produttiva era trasferita ad altra società del gruppo sino a quel momento rimasta inattiva. Le società svuotate, obberate di debiti e private degli essetti produttivi, erano quindi avviate con la compiacenza di prestanome. Nel corso delle indagini è stata individuata una società privata di dipendenti finanziata con il denaro delle imprese del gruppo confluito nella realizzazione di una pregevole villa a uso esclusivo dell'esponente di spicco della famiglia, lo stesso che avrebbe gestito l'azienda di famiglia senza onorare i debiti con lo Stato, ammontanti a circa 130 milioni di euro, lucrando grandi profitti da appalti con le pubbliche amministrazioni per sottrarre nel contempo risorse indispensabili all'integrità contabile e patrimoniale delle varie società.